L'indagine della squadra mobile di Milano che ha portato a dieci arresti per Drangheta ha dimostrato come l'attività non si fosse fermata nemmeno durante il covid e come questa si fosse ramificata nelle politiche locali e nelle varie forme di guadagno illecite. Nel corso di una conversazione intercettata infatti uno dei figli del reggente della locale di Drangheta di Pioltello intuendo la possibilità di lucrare sul fenomeno del trasporto delle salme delle vittime del virus mentre la televisione scorrevano le immagini della colonna di salme trasportate dall'esercito spiegava come attraverso una società intestata un prestanome e l'emissione di false fatture avrebbe potuto ottenere guadagni illeciti nel settore del trasporto feretri. Inoltre il presunto boss della locale di Drangheta di Pioltello Cosimo Maiolo tra i dieci arrestati nel blitz di oggi della polizia avrebbe fatto campagna elettorale nel 2021 a favore del candidato sindaco per il centrodestra della cittadina Claudio Fina organizzando un banchetto elettorale anche per l'aspirante assessore all'urbanistica Marcello Menni e invitando le comunità di albanesi e pakistani a votare per Fina e Menni anche loro accusati nel concorso di coercizione elettorale con aggravante mafiosa.